Ciao amici del MyLab, ho preparato un ebook con l'aiuto degli stessi esperti che fanno i programmi MyLab quelli che sono basati su esami degli ormoni, esami del microbioma per capire come funziona il tuo metabolismo e quindi darti consigli nutrizionali. Ecco, queste stesse persone hanno preparato questo ebook questo l'ho stampato sulla carta ma se tu ne fai richiesta nel link qua sotto puoi averlo gratuitamente l'abbiamo fatto come una lista di cose da adoperare per migliorare la longevità. L'idea ragazzi è come hanno detto quelli dell'università di Creta, si può stare dieci anni più giovani solo mettendo in ordine l'alimentazione e l'integrazione, solo, non è una cosa da poco. Il problema è che le persone hanno delle idee veramente assurde riguardo all'alimentazione, c'è la moda di qua, la moda di là e poi ognuno ha la sua condizione personale, questa deve essere tenuta in considerazione. Scaricatevi l'ebook, è gratuito e vi piacerà, sono sicuro.